Sabato 4 maggio, presso la suggestiva Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate, si è svolto il congresso medico dedicato al cuore e alle metodiche sempre più complementari di cardiologia interventistica e chirurgia. L'incontro, che ha avuto il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, è stato fortemente voluto dal dottor Marco Franciulli, presidente del congresso della Clinica Mediterranea, ed è stato organizzato in sinergia con il professor Luigi Chiariello, direttore del Centro Cuore della Clinica Mediterranea. L'idea è quella di creare una serie di congressi itineranti. Parliamo di quello che è il nuovo trend della terapia delle malattie cardiovascolari, cioè un lavoro combinato di equip in cui non c'è più solo il chirurgo che opera e decide tutto, non c'è più il cardiologo che fa lo studio emodinamico, l'intervento emodinamico e decide tutto, ma è un lavoro associato in cui ognuno contribuisce con le proprie competenze, ognuno contribuisce con le tecniche di cui è esperto, in maniera che ne viene fuori un trattamento integrato fra varie componenti. In questo caso abbiamo, infatti il titolo del convegno è il cardiologo e il cardiochirurgo cooperano, cooperano per lo stesso fine, cioè trattare i pazienti in una maniera ottimale. Si, nasce da un'idea con il professor Luigi Chiariello di avere una sinergia tra cardiochirurghi e cardiologi e varie figure professionali per cercare di una collaborazione nel trattamento di pazienti delicati e complessi che ci troviamo oggi a trattare e quindi per avere sempre un trattamento e una terapia sempre più efficace per questi pazienti. Io come parlamentare europeo sono stato impegnato in questi anni a sensibilizzare le associazioni, cercare di far capire che la prevenzione è la cosa più importante, prevenire è meglio che curare e l'Europa sul tema della prevenzione ne pone un problema molto molto sensibile perché riteniamo che se riduciamo il fumo, l'alcol, il miglior stile di vita e l'alimentazione sono gli elementi essenziali per far sì che la qualità della vita possa innalzarsi. È importante perché offre un momento di riflessione, uno spunto di riflessione autorevole da un alto profilo scientifico su questo tema, è utile quanto mai per affrontare, per discutere appunto di questi temi in un momento in cui la sanità attraversa le difficoltà che tutti noi conosciamo, quindi è utile e importante avere questi momenti di riflessione e di approfondimento su questi temi importanti.